0-0-D-D-B L'arena dove il suono si distingue apre i cancelli 0-0-D-B Ci sono cose in questo mondo che non possono essere vedute Ci sono cose in questo mondo che non possono essere ascoltate Lo puoi fare solo con Brainstorm Zero D, D, D Siamo tornati Ti sta musicando Brainstorm Chi ti sta raccontando Andrea Mnemonic Zero dB Perché essere è meglio che sembrare Suona e seleziona Brainstorm Ti esprime le sue emozioni Andrea Mnemonic Grazie a tutti 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 Grazie a tutti